a tutti raga un abbraccio da lordi che tre e benvenuti in questo nuovo video si raga questo video è molto particolare perché vi farò vedere la mappa di attack on titan si raga questo video non è clicca bene davvero farò vedere la mappa di attack on titan so che non ci credete lo so raga so che siete scettici scettici si dice boh raga si lo so comunque quello che siete siete lo siete ora vi farò vedere subito e ci cimenteremo tutti quanti in questa nuova avventura si raga non perdiamo tempo ora vi faccio vedere subito tutto allora prima di farvi vedere un po' di tempo lo voglio sempre perdere allora vediamo un attimo una cosa raga voglio farvi una cosa nel negozio oggetti che cavolo hanno messo raga vi faccio vedere che cavolo hanno messo raga che cavolo è cioè hanno messo l'uomo stonks no raga io mi dissocio da questo ora mettiamo prima una skin che potrebbe diciamo cimentarsi in questo mondo raga non mi dite niente ma scelgo lui raga scelgo lui io penso che lui sia più adatto a fare questo raga non vi preoccupate perché lascerò il codice della mappa in descrizione e ve lo farò anche vedere quando metto una mappa raga non vi preoccupate raga comunque se questo video arriva a più di 40 like farò uscire un altro video del genere e nulla raga iniziamo subito raga questo è il codice della mappa raga 80 47 43 55 54 18 non vi preoccupate raga c'è anche in descrizione ora iniziamo subito con questa mappa mettiamola e vediamo un po' cosa ci riserva raga io sono molto triste perché dovremmo aspettare un anno per la prossima puntata ok raga eccola qui non so leggere il giapponese quindi non so raga comunque questa è una zone wars singolo pvp costruzione quindi raga potete giocare con i vostri amici ecco qui raga questa è la nostra mappa eccola qui raga eccola qui oddio raga è bellissima raga è bellissima cioè è proprio la listica sembra proprio che sto in quel mondo raga non so voi ma sembra che sto in quel mondo ok iniziamo la partita avviamo ecco qui raga 3 2 1 via eccola qui raga questa è la nostra mappa abbiamo oddio raga guardate le armi abbiamo le armi antiche proprio per coincidere in quel mondo raga non so ma lì se mi sbaglio c'è nel mercato tipo raga oddio questo se mi sbaglio è il wall maria non voglio dire nulla oddio raga queste sono le scale dove Eren ha salvato armi se mi sbaglio dai quei bulli raga oddio raga sembra proprio che stiamo nell'anima raga è bellissimo questa skin ci è entrata tantissimo eh devo dire raga oddio io voglio vedere le mura raga io voglio vedere le mura assolutamente voglio vedere le mura comunque è bellissima raga chissà quante cose che potete fare raga raga questo vediamo un po' allora oddio già sta partendo la tempesta che è rotto di coglioni quella raga non so cosa sia l'ho mai vista oddio raga oddio qui dove hanno fatto lo scontro di due giganti oddio raga dove c'è il colossale alla fine si raga si io due lì si sono natutati tutti quanti raga non so se vi ricordate alla fine della terza stagione non voglio farvi spoiler ok no non riesco a salire ok sono salito raga ho solo due colpi si no ok dovrebbe essere una testa qui sopra si infatti si il nostro lampino bella ok però non posso vedere quella parte delle mura no raga non posso vedere le mura vabbè non fa niente non fa niente raga vediamo da qui vediamo da qui sopra raga comunque è fatta davvero bene è fatta bella 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 quindi si potrebbe davvero divertire che non si può manco costruire tipo raga restartiamo vediamo vediamo se posso salire ora si raga sono un po' un nabbo col rampino perchè non l'ho mai usato vediamo un po' vediamo un po' raga comunque non so voi è davvero bella questa mappa si raga lo sto dicendo sempre vi sto rompendo i coglioni dicendo sempre che è bella ma è bella davvero cioè mi sono rimasto scandalizzato perchè questa è la prima volta che la vedo ok vediamo uno due no 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 raga no 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 e dai che cristo sì raga l'ho sempre sognato di farlo raga ho sempre sognato di farlo non so voi ma io volevo sempre ballare così sulle mura raga non so voi no sta arrivando tempesta no raga no no raga no almeno moriamo con dignità oddio ma ti hanno pure più vita non ho visto sta cosa mappa veramente fatta bene curato anche questa parte raga non ci credo che hanno fatto anche questa parte ci manca solo di batterla a favore questa è il wall maria alla parte interna mi dispiace per l'hamburger ma la sua storia è finita qui raga fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto in caso lasciate un like e iscrivetevi al canale ricordando l'ultima raga campanellina e raga fatemi sapere anche se questa mappa vi è piaciuta e nulla raga ci vediamo in un prossimo video ciao ciao